Sarà un'estate ricca di eventi ludici e culturali, quella prevista a Monbaroccio, dove la Proloco, con il patrocinio del Comune e della provincia di Pesero e Urbino, ha organizzato iniziative per tutti i gusti che riusciranno a coinvolgere grandi e piccini. Tra gli appuntamenti in calendario da sabato 4 luglio fino a domenica 2 agosto, all'interno della Chiesa di San Marco sarà possibile visitare la mostra come unico dell'artista Manuele Urbinati intitolata Le Porte del Tempo. Si tratta di un percorso visivo che sintetizza la maestria dell'artista nel lavorare materiali come il legno e i metalli. Così come per i musei di Monbaroccio, l'ingresso sarà possibile da lunedì alla domenica, dalle ore 9.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19.30, sempre sabato. Poi all'interno della suggestiva cornice storica del giardino di Palazzo del Monte, il gruppo giovanile della Proloco organizza la cena al castello. È una cena dedicata a Guidubaldo del Monte, Galileo Galilei, quindi una cena culturale organizzata dalla nostra Proloco che dà il via a una serie di eventi di tutto rilievo, quindi sia gastronomici che culturali che sportivi. Quindi è un'estate piena, ricca di eventi che le Proloco, grazie ai loro volontari, che operano sul territorio e riescono a far vivere questi piccoli borghi. Tra le varie iniziative è assolutamente riconfermata la festa degli alberi, ma anche la festa della tagliatella. Sì, la festa della tagliatella, che è organizzata soprattutto dal comitato della tagliatella, devo dire che è a conclusione di tutti gli eventi estivi. Eventi resi possibili grazie alla collaborazione di tanti. Sì, devo dire che a Monbaroccio abbiamo una grande collaborazione di tutti i volontari, di tutte le associazioni che operano insieme e proprio in questi anni, in questi tre anni che io sono presidente della Proloco, abbiamo avuto grandi risultati e una straordinaria partecipazione di persone, di cittadini che hanno contribuito alla riuscita dei nostri eventi, ma in particolar modo vorrei ringraziare il nostro gruppo giovanile e in particolare il presidente Alessandro Oliva, che gestisce questi ragazzi in modo eccellente.